Fratelli carissimi, continuamente noi facciamo riti di purificazione, ma la nostra vita non cambia, perché non cambia la nostra mentalità, il nostro modo di vivere nella lettura delle ore di oggi. C'è l'invito a uscire da Babilonia, popolo mio è caduta a Babilonia la grande, uscite popolo mio da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi fragelli. Uscire da Babilonia, uscire da una mentalità pagana in cui noi ci troviamo, da un modo di sentire mondano in cui ci troviamo, da un modo di agire come gli altri uomini di questo mondo. Non siamo come gli altri uomini di questo mondo, i quali si sono i nostri fratelli, perché anche essi chiamati a divenire corpo mistico di Cristo, ma non possiamo vivere come gli altri uomini, sentirci come gli altri uomini. Noi siamo morti al mondo, siamo morti al peccato. Noi in quanto uomini siamo dei morti, è Cristo che ci ha dato una vita nuova e dobbiamo vivere secondo questa vita nuova in Cristo. Per cui il nostro modo di vivere non può più essere il modo di vivere di Babilonia, del mondo in cui viviamo, perverso e pervertitore, ma siamo cittadini del cielo, con cittadini dei santi, familiari di Dio. La nostra vita è la vita del figlio di Dio in noi, in Lui siamo diventati figli di Dio, e il codice di comportamento non è quello scritto dagli uomini, ma il codice di comportamento è quello adottato dal figlio di Dio, il codice di Cristo, quello che vige nel corpo di Cristo, nello stato di Cristo, nel regno di Cristo. Non possiamo vivere secondo il codice di un altro regno, qual è il regno del mondo, ma secondo il codice del regno di Cristo. Formarci un'altra mentalità, quella di Cristo, un altro sentire, quello di Cristo, perché saremo giudicati secondo il codice di Cristo, non secondo il codice del mondo. la nostra vita deve mutare radicalmente, nella mentalità, vedere in altra maniera, con gli occhi di Dio, misurare le cose, con gli occhi di Dio, sentire col cuore di Dio, agire in forza di un'operazione messa dentro di noi, l'operazione del suo santo spirito. C'è tutto da cambiare, per cui non basta così un atto di penitenza, una spruzzatina di acqua, un labile proposito di migliorare, no, qui bisogna andare a un cambiamento radicale, altrimenti veniremo tutti. La Madonna Fatima, oggi 13 maggio, dice convertitevi, 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 che significa cambiate, 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 cambiare mentalità, la testa, cambiare la testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere, non possiamo più vivere come vivevamo prima, come vivono gli altri, che differenza c'è tra noi e gli altri, nel modo di vivere, nessuna differenza, tra noi e i popoli che non credono in Cristo, tra un cinese, un giapponese, e un italiano, nessuna differenza, né nella mentalità, né nel modo di esprimersi, siamo di questo mondo, e dobbiamo uscire da questo mondo, noi che siamo i concittadini del cielo, i familiari di Dio, i morti a questo mondo, i rinati a vita nuova, finché non acquisiamo questa coscienza di essere popolo nuovo, popolo sacerdotale, gente eletta, siamo ancora come prima, non abbiamo mutato nulla, né siamo mutati noi, né muteremo il mondo, invece siamo chiamati a mutare noi, e a mutare il mondo, perché il cristiano è l'anima del mondo, è il fermento del mondo, una donna ha preso tre staglie di farina, e vi ha messo il lievito, e è incominciata a impastare, finché tutta la massa fu fermentata, la Madonna è questa madre di cui parla il Vangelo, che prende tre staglie di farina, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutta la massa umana, permette il fermento della grazia, il fermento di Cristo, il fermento dello Spirito e la impasta, perché tutta si rinnovi, ma questo fermento che siamo noi, siamo un fermento inattivo, fratelli e sorelle, oggi la Madonna ci chiama, a un cambiamento di vita, convertitevi, cale Babilonia, è destinata a ferire Babilonia, la grande prostituta, che ha sedotto tutta la terra, tutte le nazioni hanno bevuto del vino, della sua sprenata prostituzione, il re della terra, si sono prostituiti con essa, e i mercanti della terra, si sono arricchiti, del suo lusso sprenato, e allora uscite, uscite popolo mio da Babilonia, per non associarli ai suoi peccati, e non ricevere parte, dei suoi fratelli, perché i suoi peccati, si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato, delle sue iniquità, guai, guai immense città, Babilonia possente città, in un'ora sola, è giunta la tua condanna, guai, guai immense città, del cui lusso, arricchirono, quante veve le navi sul mare, e ora il popolo è mio, esci da Babilonia, esci da Babilonia, per non essere coinvolta, nella sua ravina, fratelli e sorelle, questo è il ricrito, che viene da Dio oggi, per bocca di Maria, cambiare, 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 la spruzzatina d'acqua, non fa niente, cambiare testa, cambiare testa, cambiare cuore, cambiare il modo di vivere, radicalmente, essere diversi dagli altri, diversi dagli altri, siamo figli del regno, figli della luce, in mezzo ai figli della tenebra, quale comunanza c'è, tra Cristo e Velial, tra i figli della luce, e i figli della tenebra, eppure noi ci mimetizziamo, ci confondiamo, non ci distinguiamo più, noi popoli di giuste, col popolo dei peccatori, chiediamo al Signore, questa mattina, che qualcuna di queste parole, scende in profondità, e che questa parola, pronunziata da Maria, convertitevi, questa parola, pronunziata da Gesù, cambiate, cambiate, questa parola, pronunziata dai Santi, liberatevi, dalla vostra, dalla vostra mentalità, dal vecchio uomo, e rivestite l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità, questo richiama vivere il Vangelo del Signore, risuoni nel nostro cuore, e cambi radicalmente la nostra vita, vuoi Signore, noi leghiamo a questo rito dell'acqua, questo rito che viene da te, viene da Maria, nostra madre, serva a questo rito, a farci riflettere, a recepire la tua parola, e che questa parola produca il suo frutto, altrimenti saremo coinvolti nel grande giudizio di Dio, con Babilonia, Babilonia cade, e noi di Babilonia cadremo insieme con lei, o Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima nostra veniste lavata, e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione, rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, rinnova in noi il santo battesimo, che ha creato in noi la vita nuova, perché vogliamo vivere secondo i tuoi dettami, te lo mandiamo per Cristo, nostro Signore, benedici, Signore, questo sale, che condisca la nostra vita, ci dia il senno e la saggezza, e il sapore cristiano, benedici questo sale, oh Signore, tu ordinasti al profeta Eliseo, di risanare l'acqua con il sale, ti preghiamo, oh Re sana, con la sapienza divina, l'acqua della nostra vita, e rendela saporosa, fa che mediante questo duplice segno di purificazione, siamo riperati dall'insidio del maligno, che domina in questo mondo, e gira in questo mondo, e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, possiamo camminare compatte verso la vita eterna, te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Amén. Amén. Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare di te, Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare di te, a cui mi perdonami, la tua grazia, mi voto su di te, liberami, guarisci il bimbi, e in te il sordo, per sempre io vivrò, Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, che dono il dono a te, Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, che dono il dono a te, accogli, a cui mi perdonami, la tua grazia, mi voto su di me, liberami, liberami, guarisci il bimbi, e in te il sordo, per sempre io vivrò, per sempre io vivrò, le creature nuove, che dono il dono a te, o Dio, che raduni la tua chiesa, spose il corpo del Signore, benedici il tuo popolo, era viva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo del santo battesimo, e la grazia della prima Pasqua, per Cristo nostro Signore, amè, un popolo redento, annunciate le grandi opere del Signore, che vi ha chiamato, dalle tenebre, alla sua immirabile luce, alleluia, il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi, il mistero della pasta, perché nati a nuova vita, nel battesimo, con la tua protezione, possiamo portare molto frutto, e giungere alla pienezza, della gioia eterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli, amè. Dal libro dell'Apocalisse, di San Giovanni Apostolo, si aprì il santuario di Dio, nel cielo, e apparve nel santuario, l'arca dell'Alleanza, nel cielo apparve poi, un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo, una corona di dodici stelle, era incinta, e gridava per le doglie, e il travaglio del parto, e apparve un altro segno, nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna, e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo, e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio, e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto. Allora udì una gran voce nel cielo, che diceva, ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Grazie a Dio. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, se conoscete me, conoscerete anche il Padre, fin da ora lo conoscete, e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre, e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me, ma il Padre che è in me, compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre, e il Padre è in me. se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità, vi dico, anche chi crede in me, compirà le opere che io compio, e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, perché il Padre sia glorificato nel figlio. se mi chiederete qualcosa nel nome mio, io la farò. Parola del Signore. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò. e questa mattina noi chiediamo di comprendere i segni dei tempi, di guardare attorno e comprendere i segni del Signore. Il cristiano che non sa leggere i segni dei tempi, può incorrere nel direggio di Gesù, che faceva ai farisei e in Suoi interlocutori, voi conoscete i segni dei tempi, quando fa caldo o quando il sole è rosso di sera e dite che c'è tempesta o c'è buon tempo, sapete conoscere i segni meteorologici, i segni del cielo, ma non conoscete i segni misteriosi dei cieli, i segni di Dio. Chiediamo al Signore di comprendere i segni dei tempi, i segni di Dio. Ecco una donna davanti ai nostri occhi, vestiti di sole, ed ecco un dragone che cerca di devorare questa donna e il figlio partorito della donna, l'enorme drago che combatte contro la donna vestita di sole, e la lotta tra il demonio e la Chiesa, sposa di Cristo, e la lotta tra i figli di Maria, i figli della donna, i figli nati dal sangue del primo genito che partorisce la donna e le potenze delle tenebre, il dragone con i suoi angeli di verde. E' una lotta che dura nei tempi e che tuttora ha un momento di reviviscenza. Dobbiamo riconoscere questo segno dei tempi, la reviviscenza del male, la reviviscenza del dragone contro i figli della donna, la lotta che si va più cruenta, tra il bene e il male, tra i figli della luce e i figli della tenebre. Diceva bene Gesù quando gridava agli ipocriti, ai farisei, voi avete per padre il diavolo. E dice bene Giovanni che in questo mondo ci sono i figli di Dio e i figli del maligno, i figli del diavolo. L'umanità si distingue in due parti, i figli di Dio e i figli del diavolo. E c'è lotta tra il mondo e i figli di Dio, i discepoli di Cristo. Dobbiamo essere compresi di questa lotta. Non possiamo stare con gli occhi chiusi e dobbiamo scegliere la parte dove stare. a metà non si può rimanere o dall'una o dall'altra parte. Chi non è con me è contro di me. O sposiamo la verità di Cristo e siamo dalla parte di Cristo o altrimenti sposiamo la menzogna e siamo dalla parte del maligno il quale è falsario fin dall'inizio e omicida. Io posto davanti a te la vita e la morte il bene e il male la luce e le tenebre scegli tu. Se scegli la vita viverai se scegli la morte starai tra i morti se scegli il bene starai con i buoni se scegli il male starai con i malati è tempo di scelta ognuno prenda la sua posizione come in cielo ci furono gli angeli buoni che si schierarono con Michele e gli angeli cattivi che si schierarono con Lugivaro così anche nel mondo c'è questo schieramento dobbiamo orientarci e deciderci a mezza strada saremo il rifiuto e del mondo e di Cristo saremo nulla saremo polverizzati non ci vorrà neanche il diavolo e neanche Cristo saremo polvere dalla strada il vento ti sverderà come pula come polvere chiediamo al Signore la luce per decidere la volontà per decidere e dobbiamo cambiare vita vita ve lo dicevo poc'anzi nella liturgia penitenziale non ci inudiamo dobbiamo cambiare vita non possiamo vivere alla maniera mondana i comandamenti di Dio vigono sempre vince sempre il comandamento dell'amore non c'è posto nel regno di Dio ce lo dice la scrittura per i colori che rubano per i maldicenti per i maghi per gli impostori per gli impuri per i colori che profanano il talamo è scritto nelle scritture da questo diceva già l'autore della lettera di Ognete l'autore del secondo secolo da questo noi ci distinguiamo dagli altri che abbiamo tutti in comune eccetto il talamo il talamo per noi e sacro io vorrei richiamare nel nome di Maria nostra madre alla purezza dei costumi alla purezza dei rapporti matrimoniali alla purezza dei rapporti tra i fidanzati alla purezza dei rapporti tra uomini e donne per i cristiani non è lecito oltreggiare il sesto comandamento e il nono comandamento che avrà guardato una donna con desiderio ha già commesso adulterio e chi usa l'uomo che usa la donna come oggetto di piacere il marito che usa la sua moglie come oggetto di piacere ha commesso adulterio perché i rapporti sono rapporti umani tra due persone uno non può essere oggetto sono due soggetti che celebrano un sacramento quando esudiscono ma noi non abbiamo compreso questo abbiamo profanato l'altare di Dio l'altare domestico l'altare della nostra vita ditela a tutti questa è la verità e lo proclamo oggi nel nome di Maria nostra madre la pura la santa e l'immacolata dice il Signore non parlare male del tuo prossimo e non ascoltare il sussurrone chi parla male del suo prossimo è impeccato non può accostarsi al corpo di Cristo perché l'Ede con i propri denti il corpo del Signore mangia il Cristo con i suoi denti e lo dilania ne possiamo ascoltare il sussurrone colui che spalla del proprio fratello perché commette lo stesso peccato di chi parla Dio strapperà le orecchie la lingua di coloro che ledono Cristo nel proprio fratello non possiamo noi direneare il corpo del Signore ascoltando parole contro il prossimo dobbiamo avere il coraggio quando uno ti parla male del tuo fratello di troncare e dire non puoi parlare male del mio fratello perché non puoi parlare male di Cristo se noi prestiamo ascolto a chi borbora a chi l'è dell'onore a chi va giù nel Cristo nel proprio fratello commette peccato più grave di chi parla perché dà modo ad un altro di maggiullare con i denti il Cristo consente nel peccato del proprio fratello e si macchia del peccato del proprio fratello quando uno ti parla male del fratello deve avere il coraggio di levargli la parola qui non si parla di troncare io sono con Cristo e devi troncare questo discorso chi non ascolta queste parole è in peccato e chi parla male del prossimo è in peccato e chi semina discorsi dei fratelli commette il peccato di abominio dice il Signore nelle scritture sei sono i peccati che odia il Signore sei ma il settimo lo ha in abominio i sei peccati sono cominciando non siamo tutti chi sparge sangue innocente ma ce n'è un altro più grave quello che ha in abominio il Signore chi semina discordia tra i fratelli e il peccato abominevole che gli abolla e che ci elimina dal Regno di Dio di quanti peccati non abbiamo coscienza perché non abbiamo cambiato testo e cambiato cuore siamo ancora pagani come diceva Paolo la lingua ci serve per dire le parole di Dio per parlare Dio o parlare di Dio e sulla nostra lingua deve risonare la triade sacrosanta cioè ciò che è bello ciò che è buono ciò che è vero tutto ciò che esce dalla lingua e non è bello non è buono non è vero è peccato il nostro orecchio che è il primo organo nel nuovo regno di Dio che viene aperto nel Santo Battesimo con l'effetà serve per ascoltare la parola di Dio la parola che dà la vita non serve per ascoltare il demonio con le parole degli uomini che danno la morte questa è verità questo è il Vangelo non rubare dice il Signore noi rubiamo un po' tutti ci sono tante forme di rubare manca l'onestà tra i figli degli uomini o rubiamo la stiva al fratello o rubiamo l'onore al fratello o rubiamo l'amore al fratello o rubiamo la roba al fratello siamo tutti lei cioè lei di questo comandamento che viene infranto e così ti dica di tutti gli altri sacramenti di tutti gli altri comandamenti i sacramenti che riceviamo male e i comandamenti che non osserviamo come ci confessiamo noi superficialmente quel sacramenti che dovrebbe rinnovarci non ci rinnova diciamo quattro peccatucci e rimaniamo quelli che eravamo abbiamo raccontato al confessore qualche cosa ma non siamo andati in profondità abbiamo ricevuto così superficialmente i sacramenti della riconciliazione e che cosa ne abbiamo fatto dell'eucaristia come l'abbiamo ricevuta l'eucaristia ci ha cambiati se l'eucaristia non ci cambia se noi non siamo quelli che assumiamo l'eucaristia non è fatta in sé pepe noi che ne diciamo di tante persone che mangiano ogni giorno l'eucaristia e restano sempre uguali come prima segno che l'eucaristia non viene ricevuta con frutto non c'è l'efficacia del sacramento quando quel sacramento non produce la morte o non produce la malattia come succedeva a Corinto per questo in mezzo a voi ci sono molti ammalati e parecchi muoiono prematuramente perché non non distingue del corpo del Signore mangia del corpo del Signore come di qualunque altro pane cari corinzi succede questo anche a voi tanti di voi siete ammalati tanti di voi muoiono cari corinzi per l'abuso dell'eucaristia e dove sono i comandamenti di Dio amerai il Signore di tuo con tutta la mente tutto il cuore e tutte le forze amerai il prossimo tuo come te stesso dove è il mio giorno dice il Signore andate a divertirvi nel mio giorno prendete per voi il mio giorno che è la domenica lo prendete per voi per divertirvi quello è il giorno mio non è il giorno vostro avete sei giorni per lavorare ma quello è il mio giorno serve per santificare il mio nome serve per istruirvi nella legge di Dio quello è il mio giorno che mi avete rubato e dove è l'onore che voi prestate al padre alla madre per questo vi ammalate perché non rispettate il padre alla madre e non avete lunga vita sulla terra è quella la vita della vostra famiglia chi domina la vostra famiglia è la fede è la luce di Cristo oppure sono entrati gli emissari del drago l'invernale qual è la stampa che leggete qual è la televisione che vedete non vi accorgete che le vostre pareti domestiche sono inquinate sono infestate non chiamate se giardote per benedire quando attraverso la televisione voi continuamente infestate l'ambiente quando i vostri pensieri i vostri costumi non sono corretti queste cose vi dice il Signore e allora fratelli e sorelle preghiamo a Maria nostra madre oggi 13 maggio perché apparisca nel santuario nostro lei che è l'arca dell'alleanza apparisca nella nostra famiglia questo santuario apparisca nella nostra società l'arca dell'alleanza rivolga ancora questa madre vestita di sole con le 12 stelle sul capo facciamo festa a Maria introduciamo la nostra vita schieriamoci con lei combattiamo con lei la grande battaglia contro il nemico che avanza il nemico che è immerso nel piacere e vuole immerserci nel piacere il nemico dall'avere e si immerge nell'avere il nemico che vuole il nostro successo mondano e si trascina la morte il nemico delle tre grandi concupiscenze colui che ha le tre maschere con cui ci seduce camminiamo con Dio all'insegno di Maria nostra madre schieriamoci con lei con lei e combattiamo con lei la grande battaglia per vincere perché la vittoria è nostra e per trionfare un giorno quando i cieli si avviranno e il figlio dell'uomo verrà per giudicare i vivi e i morti e metterà i buoni a destra e i cattivi a sinistra maledirà i cattivi che saranno spropondati dall'inferno con gli angeli svelli e trarrà con sé i buoni in cielo dicendo venite benedetti del padre mio a possedere il regno e allora si concluderà la storia del rena ed isterrà l'eternità senza di l'eternità l'eternità di